Uno con oltre 60.000 voti è il secondo dei non eletti, l'altro con più di 55.000 preferenze e invece il terzo dei candidati non rieletti per Forza Italia nella circoscrizione sud. È di fatto un patto tra esclusi, quello siglato tra Clemente Mastella e Denzo Rivellini, entrambi non rieletti alle recenti europee ma che insieme, visto l'esito delle urne al di sotto delle aspettative, lanciano un appello al partito ma anche al governatore della campagna Stefano Caldoro a dieci mesi dalle regionali. In una conferenza stampa convocata davanti ai propri simpatizzanti Mastella e Rivellini chiedono le dimissioni del coordinatore campano di Forza Italia, Domenico Desiano. Sentiamo le parole dell'eurodeputato uscente Enzo Rivellini. L'amarezza della non rielezione è passata, noi siamo pronti a dare una mano a un riequilibrio politico e a fare delle analisi, ci sono dei numeri. Desiano è il coordinatore regionale della campagna, come minimo deve fare una valutazione, con la metà dei voti la Puglia a due parlamentari europei, con il doppio dei voti e con la regione in mano noi abbiamo un solo parlamentare europeo. Un coordinatore regionale fa questa analisi, fa questa analisi che ha perso in cinque anni più del doppio dei voti che aveva, cioè un'analisi bisogna farla. Gelo quindi nei confronti del coordinatore campano ma anche nei confronti del governatore Caldoro al quale Clemente Mastella suggerisce una verifica politica in vista delle prossime elezioni che sanciranno il nuovo presidente della regione Campania. Certo che oggi chi dovrebbe avere maggior interesse a recuperare un'Italia sia Caldoro. Se Caldoro ha interesse a candidarsi, ogni tanto sento dire che non ha interesse, spero che abbia interesse, se non ha interesse ha maggior ragione le primarie, se ha interesse le primarie per legittimarlo politicamente e valutasse da subito, se fosse un consiglio a Caldoro, valutasse da subito, siccome si apre un problema, se NCD e UDC in campania sono con lui oppure no. Il prossimo anno ci aprisse una verifica politica per stabilire in anticipo, onde evitare errori ed omissioni, se il prossimo anno questi partiti stanno con lui oppure no.